Ciao ragazzi, scusate il casino e i capelli, ma piove. Cioè, li ho lavati tipo due ore fa, però... Mo sta piove... Che bello, mo mi sono ricresciuti... Cioè, vabbè che fanno schifo... Però io c'ho tipo delle onde naturali, no? E quindi, mo che mi sono ricresciuti, mi sono ritornate queste onde. Cioè, onde nel senso che stai magari me li pettino, però so carine. E come avrete letto l'articolo, in questo video io vi vorrei parlare... Aspettate un momento che bevo... Come avrete letto l'articolo, in questo video... Madonna, non mi posso vedere così. In questo video vi vorrei parlare della mia... Fobia, un parolone, però della mia paura delle palle. Che detta così fa ridere. Però, quando mi è riscaturita questa paura... Mo ve lo dico. Praticamente io stavo tornando dalla spesa, no? Mi stavo a mangiare le mie patatine e sento... Cioè, avete presente proprio quando ho sentito la pallonata, no? E ho fatto tipo così, no? E mi è tornata... Cioè, l'avete mai visto Raven, no? Che lei quando si ferma fa... Ho sentito questa pallonata. Cioè, perché tipo stavo passando in mezzo... No in mezzo delle case, però tipo dietro a un giardino. Ho sentito questa pallonata, che penso che questo avrà tirato nell'aiola, no? Dove io stavo proprio passando. E ho fatto proprio così. Ho sentito... Che poi è brutto il rumore delle palle, proprio quando la tirano forte, no? Fa quel rumore strano che è brutto. E mi sono proprio fermato come Raven. E mi è... Come se avessi avuto dei flashback, no? Tipo tutte le volte che mi sono arrivata delle pallonate addosso. E in generale. Perché io tipo non ho un buon rapporto con le palle. Con le palle quelle... Per giocare, no? Per giocare a rugby, per giocare a carcio. Per giocare a tennis. Una calamità che mi arrivano sempre addosso. Non so perché. Cioè, avete presente pure quando... Non lo so, state camminando in un parco, no? E ci sono gente che, vabbè, gioca a palla. Perché si può giocare a palla nei parchi, no? E non lo so. Per un modo o nell'altro. Magari ci devi passare in mezzo. Quelli o giocano a schiaccio, o giocano a calcio. E io ogni volta, vi giuro. Ogni volta. Che io passo in mezzo alla gente... No, in mezzo alla gente. Però vicino alla gente che gioca a palla, o che gioca a calcio. O mi arriva addosso. O mi arriva quasi addosso. Tipo, io devo sempre rilanciare. O tipo un modo per approcciare. Però non credo. Però è come se avessi una calamità. O la tiro. Perché ogni volta che ci passo, penso, Dio, ma mi arriva addosso. Ma mi arriva addosso. E ogni volta mi capita così. Oppure quando giocano... Cioè, poraccia succedeva... Succedeva di più ad amica mia che... Ovviamente, no? Quando andavi a scuola... Cioè, non so chi c'era ancora, però... Cioè, la gente ci va, però io l'ho finita. Cioè, c'era l'educazione fisica, no? E ci stava sporaccia sta amica mia che gli aveva sempre la pallonata addosso. Cioè, a me mi arrivavano addosso. Poi l'ho smesso di entrare in palestra perché dico io devi pigliarmi le palle. Non ci sto, cioè... E quindi la passavo al bar. Che poi è sempre un'altra storia trash. Io ero... Un anno io ho passato tutta... Ho passato tutta l'educazione fisica al bar. Dicendo c'ho la prof, io vado al bar e cose così. E so stato l'unico, credo, ad avere a fine anno dieci in pagella. E io la passavo al bar. Però, capito? Perché io non volevo fare... A parte che non mi piace fare l'educazione fisica. Però non mi piace stare in mezzo alle palle, capito? Cioè, che ti può arrivare addosso, che magari tu giochi uno... Non mi piace proprio. Cioè, io devi rimettere la mia salute. Perché se ti arriva in faccia... Non devo che ti spacca i denti, però ti può spaccare il naso. Se ti arriva forte, no? Io devi rimettere la mia salute. Per giocare con una palla non mi va. Quindi, diciamo, io c'ho avuto sempre sta fobia, però... Perché, capito? Non le controlli le palle. Ti arrivano addosso, non sai dove ti arrivano. Te poi arriva in faccia, te poi arriva in pancia, te poi arriva sul sedere. E quindi, cioè, nel senso, non è... Cioè, ci gioco con le palle, però... Cioè, nel senso, ok, se siamo in cinque persone... Però, tipo, a calcio, cose così, non mi piace giocare. Cioè, tipo, io penso, poveraccio il portiere, no? Cioè, lui ha scelto quel mestiere e gli arrivano sempre le palle addosso. Cioè, io non so come fa, perché io c'avevo paura. Cioè, io pure, tipo... Vabbè, ero piccola, però quando giocavamo a calcio io stavo in porta... Se la palla mi arrivava qua, io andavo lì qua. E segnavano sempre, però perché non mi piace... Non mi piace stare in mezzo alle palle. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho raccontato... Mi sono espresso male, me ne rendo conto, ma perché... Ho appena fatto le scale, no? Cioè, avete presente quando fate un po' di... Di educazione fisica? Cioè, di attività fisica, no? Pure se minima vi sentite un po'... No? Quindi mostro un po' così. E quindi niente, io spero che mi abbiate capito in questo video. Fatemi sapere pure voi se avete paura delle palle. Seppure a voi mi arrivano sempre addosso. Cioè, io vi giuro, st'amica mia ogni volta che entrava... Era una perioda della scuola, come ho detto. Ogni volta che entrava in palestra, la prima pallonata in faccia era la sua. Eppure io non so perché le attraggono le palle. Cioè, o c'è tipo un campo mistico, che quando cammino mi arrivano addosso, però... Cioè, se noi stiamo in un gruppo da cinque e camminiamo per strada, la palla va addosso a me. Quindi non so perché c'era un campo mistico, un campo magnetico strano che attiro le palle. Oppure magari sono così tanto pesante, no? Che la palla mi fa come la luna intorno alla Terra, no? È come se facessi... Non so cosa... Perdonatemi, pormi vita loca. Però è come, capito, se io avessi il mio ecosistema, per quanto sono pesante, quindi penso che la palla mi gira intorno, o attraggo la palla, capito? E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, come vi sia piaciuto. Come ho detto prima, fatemi sapere seppure voi avete qualche fobia strana, seppure a voi vi arrivano sempre le palla addosso, se vi arriva qualcos'altro addosso, che ne so, magari gli uccelli, o la neve, che te vi arriva addosso? O, che ne so, il polline. E niente, fatemi sapere... L'ho mai detto cento volte. Come ho detto precedentemente, nel video che ho fatto sul mio haul di Baby K, presto uscirà la mia canzone. Mi sembra strano da dire, perché non mi caglia nessuno, no? Però se la volete ascoltare, quando uscirà, condividitela, mettete in piace e commentatela. E niente, fatemi... E niente, perché l'ho detto cento volte. Ciao, un bacio top!